Un'altra tappa importante per giungere all'avvio del nuovo depuratore comprensoriale d'Imperia è stata raggiunta. La provincia ha infatti dato il nulla ossa per gli scarichi delle acque refule per il periodo della sperimentazione. I particolari nel servizio. Via libera dalla provincia d'Imperia per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque reflu e del nuovo depuratore comprensoriale imperiese. Si tratta di un nulla ossa fondamentale per poter avviare la fase di sperimentazione e attivare quindi l'impianto che inizialmente tratterà le acque fognarie d'Imperia e Vallimpero. In attesa poi del prossimo allaccio con il Golfo d'Anese e eventualmente anche con Andorra il cui sindaco ha recentemente espresso la volontà appunto di collegarsi al depuratore d'Imperia piuttosto che a quello della provincia di Savona. La provincia d'Imperia ha stabilito anche che alla data di attivazione dello scarico per sei mesi di avviamento e sperimentazione dell'impianto vengano eseguite analisi sui campioni d'acqua scaricati ogni 15 giorni. Al fine di tenere sotto costante controllo gli aspetti di sicurezza igienica e ambientale. Il provvedimento della provincia ha inoltre recepito le prescrizioni che erano state fornite dalla procura della Repubblica d'Imperia che ha aperto un fascicolo di indagine relativo alle strutture di smaltimento delle fogne del comune capoluogo. Colpo di scena al casino di Sanremo. Il presidente Giuseppe Di Meco si è dimesso questa mattina a due giorni dal delicato consiglio comunale di giovedì sera quando al centro dei dibattiti ci sarà proprio un'analisi sulla casa da gioco. Alla fine ha detto basta. Il presidente del casino Giuseppe Di Meco confermando l'intenzione che aveva già espresso a settembre si è dimesso dal CDA della casa da gioco. Lo ha fatto questa mattina comunicandolo al sindaco Maurizio Zoccarato poco prima della presentazione del piano d'impresa. Tutto questo alla vigilia di un delicato consiglio comunale in programma giovedì sera che avrà come principale punto all'ordine del giorno la discussione sul casino con un'analisi della delicata situazione attuale e delle prospettive future. Questo 2012 intanto si sta per chiudere con un nuovo decremento degli incassi che sembrano essere ormai in caduta libera. Alle prese con la crisi del gioco tradizionale e con l'esponenziale crescita della concorrenza rappresentata dai grattevinci e da tutte le altre lotterie o simili organizzate dallo Stato stesso. Intanto questi che stanno precedendo la seduta di consiglio comunale sono giorni di intensi incontri tra le varie forze politiche e di sindacati interni della casa da gioco. Ieri è stata la volta dei rappresentanti di FISA-Scat-CISL, UIL-COM e UGL terziario con la Lega Nord prima e con il PDL dopo. Il primo problema da risolvere è quello del reperimento delle risorse da destinare alla casa da gioco per un suo rilancio. I fondi però sono quelli che sono e quindi si deve volgere lo sguardo finalmente sugli esorbitanti costi di gestione. A parole sono tutti d'accordo ma poi queste dichiarazioni di intenti dovranno essere verificate nel concreto. Intanto ora sono previsti nuovi incontri. Il prossimo sarà con una delegazione del Partito Democratico. Tornando a Di Mecco, la sua decisione potrebbe essere stata dettata dal pressing attuato da alcune organizzazioni sindacali, in primis quella dello SNALC, ma anche da una serie di problematiche politiche interne al PDL. Nelle scorse settimane, infatti, alcuni esponenti di maggioranza avevano espresso malumori, sfociati addirittura in una richiesta di azzeramento di tutti i vertici, direttori compresi. Ora Di Mecco tornerà a sedersi in giunta? Difficile dirlo. Anche se la presenza tra i banchi del Consiglio, di chi fino a ieri ne ha chiesto la testa come presidente del Casinò, sconsiglierebbe questa ipotesi per evitare future tensioni anche a Palazzo Bellevue. Insomma, gli ingredienti per un Consiglio Comunale caldo, se non addirittura incandescente, ci sono tutti. Tenute del turismo internazionale e flessione del mercato interno, un trend già noto in Igulia che viene confermato anche nelle previsioni turistiche per le prossime vacanze di Natale. La nostra regione, infatti, sarà scelta come luogo di vacanza, soprattutto dagli stranieri, mentre gli italiani continueranno a diminuire. Ai nostri microfoni l'assessore regionale al turismo, Angelo Berlangieri. Le aspettative turistiche per il Natale 2012 sono più o meno in linea, per fortuna, con il periodo del 2011 che è già un risultato, le cose vanno come sembra dai primi dati che l'osservatorio ci sta proponendo sulle previsioni di prenotazione delle strutture ricettive e positivo, visto la situazione di crisi, sempre legato soprattutto al movimento turistico internazionale. Per fortuna la destinazione Liguria, essendo una destinazione di prossimità, ma avendo anche la capacità di proporre, per il suo aspetto climatico, ma anche per tutti i valori della bellezza ambientale e territoriale, dell'offerta che abbiamo, di proporre proposte di viaggio sull'area prossimale del centro e del nord Europa, riusciamo a prendere quella parte di mercato che sta soffrendo, ma soffre meno rispetto all'Italia, quindi ancora la capacità di muoversi e di spostarsi. Purtroppo il movimento turistico interno invece sarà in flessione, come è in flessione in questi mesi, questi sono mesi in cui le strutture ricettive, onestamente, sono quasi completamente vuote, non c'è più quel movimento interno che una volta consentiva anche un po' di allungare la stagione, questo è l'effetto della crisi, però per fortuna la Liguria ha questa capacità di posizionamento sul mercato estero che le permetterà, nel Natale che sta per arrivare, di mantenere le posizioni dell'anno precedente. Dura denuncia da parte del capogruppo del PD in Consiglio Provinciale Riccardo Giordano, in merito all'abitudine di molti motociclisti di praticare cross su mulattieri e sentieri protetti. A testimoniarlo sono anche alcune foto scattate nell'immediato rentoterra di Santo Stefano al mare, molti sarebbero centauri tedeschi portati da improvvisate guide locali. Giordano, lei ci ha portato una documentazione fotografica con alcuni scatti che vedremo tra poco alle nostre spalle, a cosa si riferiscono? La documentazione che ci è stata fatta per venire da chi ha sollevato la questione, sono molti i soggetti sul territorio che sono preoccupati da quello che sta succedendo, ossia da un utilizzo illecito, irregolare, da parte di alcuni motocrossisti, non tutti, non vorrei scatenare polemiche, generalizzare, assolutamente no, perché ci sono motocrossisti corretti, ma quelli che vediamo nella fotografia sono sportivi che utilizzano per allenarsi le mulattiere antiche. Ora, è evidente che le due cose non si conciliano, perché le mulattiere antiche sono reperti e vestigia di un passato che noi dobbiamo valorizzare e che possono essere messi all'interno di un ragionamento di valorizzazione del territorio, di una rete di escursioni che possono far conoscere e apprezzare sempre di più il nostro intotera. Se vengono utilizzate come pista da moto, si disintegra. Allora, noi abbiamo voluto come gruppo consigliare per il democratico sollevare la questione, perché tutte le istituzioni se ne preoccupino, perché la materia è abbastanza complessa, ci hanno a che fare i comuni che possono intervenire con le ordinanze, ma può anche interessarsi nella provincia, in quanto che è possibile fare delle convenzioni per l'utilizzo della polizia provinciale, proprio per andare a verificare lo scorretto uso da parte di questi sportivi, di percorsi che sono riettati. Perché sono passibili di sanzione, sono zone di interesse? Sono zone di interesse, qua nello specifico siamo in una zona che è un PC, che quindi è un sito di interesse comunitario, quindi a maggior ragione ci dovrebbe essere una tutela paesaggistica e ambientale che purtroppo non c'è, è solo sulla carta. Ma in ogni caso io credo che qualsiasi mulattiera, quando anche passasse in mezzo a fondi non tutelati, dal punto di vista paesaggistico, andrebbe preservata, perché è un monumento che fa parte della nostra storia e della nostra cultura. Si dice che molti siano tedeschi? Questo è un altro aspetto, perché l'Italia sta diventando un pochettino il paese, lo è sempre stato, ma sempre di più il paese dove quello che non si può fare dalle altre parti lo si viene a fare in Italia. Siccome la normativa in quei paesi è molto più rigida di quanto non sia in Italia, e siccome gli appassionati di questo sport, come tutti gli appassionati, sono disposti a fare anche molti chilometri per potersi allenare, oppure conciliare periodi di vacanze a periodi di esercizio dello sport, c'è una presenza importante di sportivi austriaci e tedeschi. Con guide italiane. Con guide italiane, evidente. Quindi noi siamo responsabili. Siamo responsabili di sicuro. Poi io ritengo che i più a pistonare, come si dice, sulle mulatiere siano ancora gli italiani. Però c'è questo connubio, questa aggregazione che bene non fa. Quindi per chiudere servono più controlli. Servono più controlli, bisogna che si faccia anche a livello provinciale coordinamento, si prendano i sindaci che hanno interesse, si faccia fare ai sindaci le ordinanze, si faccia la convenzione per l'uso della polizia provinciale, e quindi si facciano i controlli dovuti perché queste zone e questi manufatti vanno assolutamente tutelati. Promuovere una coalizione allargata fra moderati in vista delle prossime elezioni del 10 marzo del 2013. Questo è l'input che ieri sera la direzione provinciale dell'Udc Imperiese ha fornito al segretario provinciale Danilo Parodi e a quello cittadino del capoluogo Antonio Motosso. Motosso ha espresso il suo compiacimento per l'atto di fiducia che la direzione provinciale ha voluto esprimere nella sua persona in vista dell'importante appuntamento elettorale. Nei prossimi giorni l'Udc Imperiese proseguirà nel calendario di incontri previsti per la costituzione di questa aggregazione con lo scopo di definire un progetto politico nuovo al fine di riportare fiducia ed entusiasmo nell'elettorato. E continua a far discutere nel Savonese il progetto della nuova bretella Borghetto Santo Spirito Carcare Predosa anche in occasione della recente assemblea pubblica che si è svolta a Finale Ligure sono state espresse numerose perplessità verso quest'opera. Durante l'incontro sono state infatti illustrate le contrarietà relative al dissesto idrogeologico, al deturpamento dalle vallate e alla problematica dello stoccaggio delle enormi quantità di detriti che risulterebbero dai lavori in seguito alle numerose gallerie che dovranno essere realizzate. Come alternativa è stato proposto un potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e Torino-Savona. Nei prossimi giorni sono in programma nuove assemblee pubbliche a Mallare e a Pallare. Massimo Ghilardi della Samchem è stato l'unico imprenditore della provincia di Imperia ad essere selezionato per il premio imprenditore dell'anno consegnato nella sede della Camera di Commercio di Genova su iniziativa dell'Iguria Business Journal e Banca Carigie. La commissione chiamata a valutare l'operato degli imprenditori Liguri nel corso del 2012 ha infatti valutato con grande interesse l'iniziativa imprenditoriale di Ghilardi nel settore della produzione e commercializzazione del tabacco. Non è la prima volta che Massimo e il padre Carlo Ghilardi che propongono sul mercato idee imprenditoriali innovative ed anche eco-compatibili. Bene, noi ci fermiamo qualche istante, ci sentiamo tra poco. Seconda edizione giovedì sera alle 21 di Stocco contro Stocco. La sfida che gli chef compiati a base di Stoccafisso, ideata dall'Accademia dello Stoccafisso e del Comitato San Giovanni d'Imperia. La manifestazione è stata presentata questa mattina dal presidente dei due sodalizi organizzatori, Sergio Nantieri. Sergio Nantieri, Accademia dello Stoccafisso, Comitato San Giovanni insieme per una seconda edizione di Stocco contro Stocco. Insomma, la sfida continua all'insegna della tipicità comunque. Sì, soprattutto di questa è la nostra tipicità, le nostre tradizioni, ma soprattutto anche per i nostri prodotti. Non possiamoci dimenticare che noi abbiamo dei prodotti, vedi l'olio, vedi il vino, che sono una cosa che non è che ce ne siano tanti in giro. Olio, vino e il vino accompagnerà lo Stoccafisso di questa sfida di giovedì 22 novembre, ore 19, dai cacciatori, ci sarà anche la confraternita dell'Ormeasco. Ci saranno tutti quanti le aziende che hanno appunto offerto il vino per questa serata, come di solito quando andiamo in giro, che qualche giorno viene sempre un rappresentante, quindi senz'altro saranno presenti. Allora, la Liguria, poi la confraternita friulana, ancora uno chef di Ancona, il Piemonte e anche l'Ucraina. E anche l'Ucraina, sì, sono due ragazze che sono appunto in Italia, che fanno le cuoche e hanno voluto partecipare, però rappresentando il loro paese. Fanno un Stoccafisso un attimino un po' particolare e quindi benvengono e noi avremo da imparare qualche cosa. E vinca il migliore, come sempre. E vinca il migliore, come sempre. Una cosa che è molto importante, noi adesso del 2013 saremmo chiamati ad Ancona a partecipare alla gara dei cinque che hanno vinto, ossia i cinque campioni si batteranno per uscire fuori il campionissimo. Questo qua mi sembra che sia a marzo del 2013. Anche noi questo progetto ce l'abbiamo, fatto i cinque anni, chi uscirà fuori. Adesso l'anno scorso ha vinto l'Accademia Vesuviana di Napoli, quest'anno sarà il secondo e poi ai cinque anni vedremo da fare il campionato, se io ci sarò ancora. Nell'ambito degli appuntamenti legati alla festa del Patrono d'Imperia San Leonardo, giovedì al Centro Culturale Polivalente di Piazza Duoma alle 15 verrà presentata una pubblicazione dal titolo Grazie Fradiego, ultime tappe terrene di padre Leonardo da Porto Maurizio. Si tratta di una trascrizione curata da Sara Ciccolone Riello dal diario di Fradiego, il fraticello laico che condivise la vita del santo scrivendo in un diario molte notte importanti. Il pomeriggio sarà introdotto da Donivo Raimondo, presidente del Centro Studi Leonardiani e verrà presentato da padre Alberto Tosini dell'Ordine dei Francescani Minori. Venerdì alle 21 invece nella Casa Natale di San Leonardo in programma la partenza della Via Crucis che si snodderà fino alla Basilica del Duomo. Alchimia della Nuova Era è il titolo del nuovo libro di Chiara Zappoli e di un evento organizzato dal Lions Club di Anno Marina Golfo. L'appuntamento si terrà nella città degli Aranci venerdì alle 21 nella sala consigliare del Comune e in piazza Martiri della Libertà. Ora come sempre ci occupiamo di cantieri sull'autostrada dei Fiori del Quadrametto. Questi cantieri della settimana da lunedì 19 a domenica 25 novembre che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 di competenza tra Savona e delle confine di Stato. In direzione Francia quindi sulla careggiata nord tra Feghino e Finale Ligure giovedì solo di notte careggiata a doppio senso a causa dei lavori sulla careggiata opposta. Tra Albenga e Andorra invece martedì e mercoledì anche di notte riduzione della careggiata da 2 a 1 corsia per rifacimento della pavimentazione in seguito ad un incendio. Sempre in direzione Francia tra Imperio Ovest ed Arma di Taggia lunedì e martedì anche in orario notturno riduzione della careggiata da 2 ad 1 corsia per bonifiche di pavimentazione. In direzione Genova invece quindi sulla careggiata sud tra Andorra ed Albenga da lunedì a domenica anche in notturno riduzione della careggiata ad 1 corsia per adeguamento del pannello a messaggio variabile. Tra finale Ligure e Feghino giovedì solo di notte scambio di careggiata per bonifiche urgenti nella galleria Rocca Carpanea. Tra Feghino e Spotorno infine da lunedì a domenica anche di notte riduzione della careggiata ad 1 corsia per adeguamento delle barriere di sicurezza. Con il quadramento della situazione di oggi la temperatura minima è registrato 14 gradi 19 la massima, 18 del mare, umidità 72%, vento tra sud-est e sud-ovest ad una velocità media fra 5 e 10 km orari. Cielo poco nuvoloso, mare poco mosso, pressione 1015 octopascal in aumento. Le previsioni per domani e prossimi giorni, domani ampie schiarite, transiti nuvolosi, venti deboli e tendenti a provenire dai quadranti meridionali. Il mare sarà poco mosso, le temperature senza variazioni di rilievo. L'avvicinamento di un'onda depressionaria porterà a un graduale peggioramento con nuvolosità irregolare e possibili deboli precipitazioni sparse a partire dalla notte tra giovedì e venerdì. Domani è mercoledì 21 novembre. Il sole sorge alle 7.30, tramonta alle 16.56. La luna in fase crescente cala a mezzanotte 19 e leva alle 13.16. Il nostro giornale si chiude qui l'appuntamento alle prossime edizioni se volete sul nostro sito imperiatv.it. Grazie a tutti e buona serata.